Meno di 24 ore all'inaugurazione del nuovo centro Pecci che torna alla città dopo un investimento di quasi 15 milioni e dopo 6 anni di lavori e 3 di chiusura totale per il completamento dell'anello progettato da Morris Neo che ha avvolto l'edificio finito di costruire nel 1988 su disegno di Italo Gamberini. La navicella spaziale perché a questo somiglia il nuovo Pecci è pronta a decollare. Domani alle 11 il taglio del nastro con apertura gratuita per tutti. Oggi l'anteprima per istituzioni e stampa che tra operai ancora al lavoro per ultimare l'allestimento hanno potuto muoversi tra le tantissime installazioni della mostra La Fine del Mondo curata dal direttore del Pecci Fabio Cavallucci. È un giorno bello, anzi bellissimo e lo dico a tutta la nostra comunità, a tutti i pratesi, siatene orgogliosi. Il Pecci non è qualcos'altro o di qualcun altro, è di Prato e parla di Prato ovviamente è qui ma parla alla regione toscana sicuramente, all'Italia antera ma deve essere internazionale. Esattamente come siamo stati noi nel corso del tempo, intraprendenti, capaci di dialogare con tutto il mondo, capaci di farsi raccontare spesso in maniera grandemente positiva. Ecco, siatene orgogliosi, consideratelo vostro, consideriamolo di nostro, della nostra comunità. Qui deve essere il luogo in cui la contemporaneità che ci è arrivata in casa senza bussare e ci ha portato problemi, ci ha portato opportunità, temi aperti, questioni da risolvere, qui trova la declinazione dell'arte. Uno spettro di interessi molto ampio che davvero, nelle intenzioni dei promotori, comune di Prato e regione toscana, vuole fare del nuovo centro Pecci un polo che vada oltre i confini regionali. È un museo ma non è solo un museo, è un luogo in cui trovarsi, dialogare, discutere, vedere film, presentare libri, parlare di cultura, cenare, andare al bistro, vedere degli eventi. Questo deve diventare il museo Pecci e per questo, io dico, a partire dalla nostra comunità, siatene orgogliosi, consideratelo un pezzo importante di una storia nuova nella nostra città. Comune e regione ci hanno creduto e ci hanno messo tanti soldi ma avvertono il centro Pecci dovrà trovare un proprio equilibrio economico. Bisogna che i museo Pecci mantengano, ovviamente non possiamo permettere, certamente come facciamo il pretorio, come facciamo il tessuto, il metastaso, il politeama, bisogna far sì che un equilibrio economico si trovi. È inutile pensare che si possa reggere per anni e anni in situazioni difficili perché i comuni fanno sempre più fatica.